Coraggiosi nel servizio di Cristo e della Chiesa per rispondere alle nuove sfide e le nuove missioni, anche se rischiose. Papa Francesco è sortato così, chiarici mariani dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, ricevuti in Vaticano in occasione del loro capitolo generale. Ricordando l'impegno della congregazione in 20 paesi del mondo, il Pontefice è invitato a seguire sempre la regola del fondatore, San Stanislao di Gesù e Maria, e a portare avanti la testimonianza di fede, commemoria e attenzione, tenendo anche conto degli errori del passato. Una testimonianza che è impegno con e per i poveri, annuncio del Vangelo in un linguaggio comprensibile e semplice. Noi non siamo principi, figli di principi, o di conti, o di varoni, no? Siamo gente semplice, di popolo, e per questo ci avviciniamo con questa semplicità ai semplici e a quelli che soffrono di più, i malati, i bambini, gli anziani abbandonati, i poveri tutti, no? E questa povertà è al centro del Vangelo perché è la povertà di Gesù, non la povertà sociologica. Altra sfida da affrontare è l'inculturazione scenari sempre in cambiamento. Siete chiamati, ha detto il Papa, a camminare con libertà profetica e saggio discernimento, con cuori aperti per interpretare i segni dei tempi e cogliere l'appello di un'umanità bisognosa di speranza e pace.